buongiorno buongiorno a tutti riccardo di gasparro allora signori oggi parliamo di cose molto importanti eventi nazionali internazionali perché partecipare a cosa dovete fare attenzione e compagnia bella io intanto che vi connettete mi sistemo per la prima volta stamattina attenzione per la prima volta stamattina buongiorno a tutti vedo che vi state connettendo ciao ragazzi ciao a tutti io per la prima volta oggi condivido il video perché dovete sapere che di gasparro è un piccolo e purtroppo è la verità mi condivido la diretta in community facebook per la prima volta devo uscire dalla zona di comfort io non avviso mai delle mie dirette lo sapete chi si connette bene chi non si connette in bocca al lupo io sono così ragazzi allora adesso provo a condividermi intanto che vi connettete buongiorno buongiorno a tutti allora intanto mi condivido questo video questa diretta spero di fare bene tra l'altro aspettate un attimo che allora condividi come io vedo che tutti quelli che fanno le dirette su facebook no per avere più persone in live si condividono sempre no la live da tutte le parti me ne sono sempre fregato stamattina ci provo anche io vediamo un po che succede magari aumentate magari no non me ne frega nulla perché tanto noi siamo noi e degli altri non ce ne può fregare di meno condividi in un gruppo eccolo qua sto per fare questo gesto in diretta signore riccardo di gasparro eccolo qua il gruppo community facebook vai o le vediamo un attimo sto condividendo vediamo un po se è andata signori un attimo che arrivo allora se è andato tutto a posto ricarichiamo la home di facebook si ha condiviso un video nel gruppo riccardo maria gasparro ok perfetto ci siamo stamattina l'ho fatto sono uscito dalla mia zona di comfort allora buongiorno a tutti buongiorno a tutti come state ragazzi tutto bene buongiorno a tutti buongiorno ciao a tutti vi state connettendo come sta andando la vostra vita il vostro business io stamattina mi sono fatto un sacco di cose la mattina mi sto svegliando sempre prestissimo come sempre e più o meno sempre intorno tra le 6 e le 7 vedo un po adesso forse la sveglia la metto un po prima per riuscire a meditare a fare un sacco di cose poi la mattina che migliorano l'energia voi come state messi che state facendo come va il vostro percorso signori siamo ad aprile è il 2 aprile gennaio febbraio marzo aprile sono passati quattro mesi ok quattro mesi del nuovo anno 2019 ricordate il brindisi che avete fatto a inizio anno o non so quando lo guarderete questo video magari sarà nel 2048 comunque ci sarà insomma un capodanno che avete fatto a capodanno cosa vi siete detti siete in linea con il raggiungimento dei vostri obiettivi state facendo azione se vi state impegnando cosa state facendo mi raccomando fate sempre dei risoconti perché sono molto molto importanti è molto importante fare dei risoconti ogni tanto anzi io vi consiglio di avere dei check poi ne parliamo faccio un'altra live check settimanali insomma giornalieri miscelarli per cercare di capire dove siete allora tra l'altro domani ho l'evento oggi è martedì se non sbaglio fatemi vedere che domani non ho la live per me è molto comodo esatto domani è mercoledì meno male giorno dell'evento niente live che sono più comodo perché in italia sto facendo un giorno sì e un giorno no adesso perché sono pieno di cose da fare devo uscire con i corsi tra un paio di mesi cose in picci e in brodi allora oggi parliamo di eventi innanzitutto partecipare agli eventi di network marketing quello che dovete sapere è che è vitale se taggate i vostri distributori colleghi condividete questa diretta fategli sentire queste cose sugli eventi mi raccomando fidatevi del buon di gasparro che vi dà saggi suggerimenti tra l'altro adesso ne parliamo allora perché è importante partecipare agli eventi innanzitutto partiamo da questo presupposto se voi fate la vostra attività da soli e se voi mi sento sempre abbastanza esaurito quando faccio le live credibile è molto importante capire che se non partecipate la vostra attività viene il vostro futuro viene messo a repentaglio non potete fare di testa vostra c'è l'alert sono pure senza orologio io odio essere senza orologio buongiorno a tutti buongiorno a tutti è arrivata la notifica bravi avete attivato la notifica delle dirette di gasparro bravi tra parentesi chi vuole ci sono ci dovrebbero essere le tre palline in alto a destra ricevi notifiche non lo so vedete voi ok più o meno era quello da come mi ricordo quindi perché è importante partecipare perché prendete energia prendete visione prendete determinazione e prendete soprattutto aumentate la vostra forza di volontà perché l'evento ve la dona grazie alle testimonianze grazie alle storie grazie a tutta una serie di cose ok quindi è molto importante estremamente importante non mancare mai agli eventi di network marketing a partire dalla vostra organizzazione quindi gli eventi dove sono i vostri leader più grossi in zona di qua e di là adesso parliamo pure di eventi nazionali internazionali europei perché partecipare perché non partecipare ad alcuni bim bum bam ok però bisogna capire buongiorno a tutti ciao daniela ciao andrea ciao a tutti ok esatto stefania vedo che ha scritto live consapevolezza della potenza della nostra azienda esatto ognuno di voi quando partecipa agli eventi della propria azienda si rende conto che sta nell'azienda giusta almeno me lo auguro per voi insomma ok si rende conto che sta nell'azienda giusta perché vede l'ambiente a di un certo livello come l'azienda lavora i leader come si muovono come si vestono cosa come parlano quello che dicono cioè quindi è molto importante partecipare e non fare di testa vostra se avete distributori o da online che fanno di testa loro come gestire queste persone sponsorizzatene altri perché tanto a furia di spiegare 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 poi alla fine vi fanno perdere solo con un sacco di tempo perché di solito le persone che non capiscono l'importanza del partecipare agli eventi o è perché voi non glielo avete spiegato è perché sono scemi loro quindi in ogni caso perché non capiscono loro in ogni caso se non capiscono loro e sono tarati ok non riescono a comprendere certe cose dovete sponsorizzare altri se voi nel senso che non dovete perdere poi così tanto tempo con quei distributori se invece la colpa è la vostra la colpa è la vostra perché non gli avete spiegato l'importanza di partecipare agli eventi ne avevo già parlato di questa cosa in altre live quindi è molto importante che voi capite bene che è importante che voi partecipate agli eventi ma che la vostra squadra viene con voi agli eventi della vostra azienda del vostro network perché se partecipate agli eventi di zona agli eventi nazionali agli eventi internazionali da soli sempre solo voi non vi duplicherete mai quindi mi raccomando training settimanali della vostra azienda con i vostri leader siete distributori che non avete fatto ancora grosse qualifiche di qua e di là non mancate mai partecipate meeting di un certo livello su scala regionale partecipate fa niente che la distanza no mezz'ora di macchina un'ora di macchina che molti si perdono in queste bagianate che per 30 minuti 60 minuti di macchina uno non si muove muovete le chiappe fidatevi se no rimanete inchiappettati ve l'ho già detto la parola inchiappettata adesso tra un po' la brandi cioè ok diventa proprio mia al 100% quindi muovetevi non sottovalutate queste cose fatevi 30 minuti 60 minuti di macchina due ore di macchina se necessario per andare ad ascoltare grossi leader qualificati questo su scala regionale ok non vi risparmiate se stanno addirittura 20 30 minuti di macchina da voi i vostri leader fanno training di qua e di là siete dei pazzi psicopatici se mancate cioè non avete scuse cioè se mancate agli eventi che stanno da voi a mezz'ora di macchina con grossi leader anche un'ora di macchina siete dei pazzi fulgurati e ve lo dice uno che se ne è fatti decine di migliaia di chilometri ok a stare coi panini imboscato prima a non farmi vedere da 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 nessuno che mi vergognava sta col panino cosa assurda ok quindi non vi spregate non vi risparmiate fate chilometri ma attenzione qui entrano i suggerimenti tecnici saggi del buon di gasparro che vi fare live ok vi dice delle cose importantissime come muovervi su scala nazionale io questa è una cosa che dico sempre poi arriviamo europea e mondiale su scala nazionale su scala nazionale dovete a un certo punto soprattutto se siete all'inizio del vostro percorso dovete controllare bene e cercare di fare attenzione al vostro portafoglio questa è una cosa che dovete capire se non fate attenzione al vostro portafoglio rischiate di girare come delle trottole in tutta italia ma parlo dell'italia perché noi siamo italiani ok poi sto vedendo che dal blog stanno arrivando molte visite anche dagli stati uniti il resto del mondo però abbiate pazienza noi siamo italiani questo ok dovete fare attenzione al vostro portafoglio è estremamente importante perché se cominciate a spendere un botto di soldi cominciate a esagerare nel partecipare a destra e sinistra a fare i diavoli della tasmania sulla mappa fate così sud italia centro italia nord italia no perché io devo partecipare agli eventi no perché io devo partecipare agli eventi no perché io devo partecipare agli eventi no perché il mio leader mi ha detto che devo partecipare agli eventi sì certo che devi partecipare agli eventi ma capisci bene che se su scala nazionale avete dei meeting non potete partecipare ogni volta a tutti i meeting perché a fine mese spendete 3000 euro per andare a girare ok come delle trottole in giro e non è il caso anche questo è l'anti network io infatti per tutti quei leader che fanno ammazzare la loro gente e gli dicono ai loro distributori no perché tu ci devi andare a tutti i costi e perché di qua e perché di là uccidi ti vai lanciati per andare all'evento non deve tre ne frega niente delle tue difficoltà perché di qua quelli sono pazzi invasati che vanno arrestati dalle forze dell'ordine me lo auguro presto che gli andrebbe cancellato il codice attività quindi cercate di gestire al meglio questa vostra situazione su scala nazionale partecipate solo agli eventi quelli più potenti dove ci sono i massimi leader ok che ne so in alcune compagnie si chiamano super saturday in altri si chiamano weekend seminar in altre compagnie non so come si chiamano insomma altri nomi cercate di partecipare soltanto agli eventi che contano davvero con i grossi leader perché se poi esagerate e partecipate a 7 miliardi di eventi guadagnate già 100 euro al mese magari 50 euro al mese perché tutti all'inizio è così ok 200 euro quello che è cominciate a spendere più delle vostre entrate su scala nazionale magari non riuscirete poi a partecipare agli eventi dei vostri leader che ci avete sotto casa un'ora di macchina quello che è avete agganciato vi sto dando degli importanti suggerimenti sono saggi questi suggerimenti fatene tesoro perché il vostro portafoglio va tutelato i segreti della mente milionaria di harvegger è un libro che vi dovete leggere cioè lo dovete leggere non potete scappare dai segreti della mente milionaria di harvegger non potete scappare da quel libro lì lo dovete leggere è molto importante poi oddio metterlo in pratica è un casino assurdo perché è difficilissimo comunque vi dico la verità tutti quelli che la fanno semplice è no leggi il libro e metti in pratica come per napoleon il pensa e arricchisci te stesso o si l'ho fatto non penso proprio che l'ho letto venti volte pensa e arricchisci te stesso ancora tante cose sto lì che porca vacca devo ripassare 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 sempre sulle stesse pagine quindi però cercate di metterle in pratica quelle cose arriviamo anche anzi fatemi leggere per andare su scala europea mondiale fatemi leggere un attimo che state scrivendo allora vedo che state taggando vostri distributori fate bene perché comprendere l'importanza di partecipare agli eventi e come gestire questa cosa dove esserci dove puntare è molto molto importante vediamo un attimo confronto con altri colleghi di altre zone che ci aiutano a capire dice andrea che se siamo in un momento basso il lavoro ha fatto su di noi e non le sull'azienda ecco quello che ha appena detto andrea è una cosa molto importante non a caso andrea è un esperto di network allora innanzitutto esatto confrontarvi con altri colleghi partiamo dal confronto se voi vi confrontate con altri colleghi e potete confrontarvi con altri colleghi solo ed esclusivamente se partecipate agli eventi è chiaro che il vostro spirito può soltanto che trovarne beneficio la vostra mente la vostra psicologia può soltanto che crescere perché dal confronto si capiscono poi tante cose magari riuscite a capire che dovete presentare dovete aprire l'evento in un evento ok della vostra organizzazione cioè ci sono molteplici vantaggi del partecipare ad altri eventi del comunque del del fare alcune azioni ok sì esatto ok ragazzi io intanto live devo leggere per forza i commenti i momenti difficili dell'attività come tutti i lavori anche solo una frase di un evento mi ha rimesso in pista più forte di prima questa è un'altra cosa tipica del network marketing state in un momento down stai male perché il tuo amico del cuore ti ha accannato meno male a me è successo è successa la stessa identica cosa non vi preoccupate andrà tutto bene lo stesso stai con le seghe mentali in testa magari ascolti all'evento quella frase quel click quella 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 parola che magari ti innesca un cambiamento ci capite perché è importante esserci ci sono molteplici vantaggi ok però se rimanete a casa vostra o se rimanete sempre soltanto nella vostra zona di comfort questo è l'errore al contrario cioè quelli che non è che seguono che girano troppo quelli che non girano per niente quello è un errore madornale lo stesso rimanere sempre soltanto dentro casa vostra io oggi come oggi ormai mi conoscete mi seguite blog pitch e brogli ok cioè sapete io comunque ho raggiunto certi risultati nel mondo del network marketing ok dovete sapere che ancora oggi io personalmente ho distributori che non mi seguono cioè è così è fisiologico innanzitutto perché è fisiologico però non è un peccato per me perché il mio ego ne ne perde ok se loro non mi seguono cioè a me più di tanto non me ne frega niente cioè è brutto a dirlo è cruda ma io voglio lavorare e con la mia esperienza ho capito che devo lavorare solo con chi vuole lavorare però capite bene che per la persona è un grosso danno perché rimanere sempre confinati nell'angolo ok di casa non fa bene al business tra l'altro non date nemmeno un buon esempio alla vostra organizzazione perché la vostra organizzazione continuerà a vedervi comincerà a guardarvi in modo diverso e di ma perché non partecipa mai ma perché non c'è ma perché dal grande leader non va ma come nel mondo del network si dice che quando ci sono i grandi leader bisogna partecipare all'eventi e la mia upline non ci va cioè le persone poi inizieranno in automatico a farsi delle domande è ovvio ok non arrivate a questo punto quindi non fate neanche l'errore opposto di rimanere confinati dentro casa vostra dal che c'è da dal fare tasmania in giro per l'italia ok rimanete confinati dentro casa non va bene neanche quello il giusto equilibrio per la formazione esatto andrea giusto vedo che state taggando persone bravi avete capito è molto importante signori veramente molto importante altro punto adesso andiamo su scala europea vi faccio un discorso su scala europea scala mondiale internazionale allora anche questo è un concetto molto delicato questa live salverà il percorso di migliaia di persone ne sono certo perché tanto poi ve lo spiattendo da tutte le parti su tutti i miei canali quindi ogni volta adesso arriviamo stiamo andando intorno alle mille persone alla volta ogni live sto notando col tempo poi ricontrollo le visite di qua e di là quindi in modo totalmente organico io non sto promuovendo nulla e non condivido quasi mai niente oggi la prima volta che l'ho condiviso nel gruppo in community questa live allora cosa c'è da capire a livello di seguire gli eventi a livello europeo e a livello mondiale allora è chiaro che seguire un evento a livello europeo quindi uscire fuori dalla vostra nazione è un passaggio veramente molto bello che vi consiglio di fare e dovete fare se volete veramente crescere come persone ok però dovete capire che un conto è partecipare ad eventi europei un conto è partecipare ad eventi internazionali è diverso tipo gli stati uniti che ne so la russia tokyo in giappone filippine che cavolo ne so ok cambia tutto perché il biglietto vi parlo a livello pratico perché tanto lo so che molti di voi hanno queste problematiche io per questo faccio training pratici semplici con cose che poi vi riguardano da vicino perché lo so ci sono passato anch'io ok allora un conto è spendere soldi per un viaggio in europa capite bene che andare in francia andare in germania andare in spagna piuttosto che in portogallo o magari non lo so in romania viaggiare ok più o meno nell'orbita europea a un prezzo decisamente inferiore penso che siamo tutti d'accordo rispetto a che magari a viaggiare negli stati uniti ultimamente tra l'altro i costi per andare negli stati uniti sono aumentati ancora di più cioè è totalmente diverso il prezzo per viaggiare in europa il prezzo per viaggiare negli stati uniti perché tanto alla fine è quello il problema perché ve lo sto dicendo perché molti leader spingono eccessivamente troppo da questo punto di vista cioè vogliono per forza che i loro distributori viaggiano a livello mondiale anche all'inizio capite bene che se i vostri distributori non ce l'hanno i soldi per viaggiare a livello internazionale per andarsene a minimo dieci giorni negli stati uniti perché non è che fate 48 ore dovete fermarvi dieci giorni e per fermarvi dieci giorni avete bisogno di un sacco di soldi se i vostri distributori perché l'america costa ok inutile starsi a prendere in giro sono stato tre volte a las vegas un botto di volte sono andato in america lo so se i vostri distributori non conoscono cioè non non conoscono sì vabbè anche non conoscono bene tutta la situazione prezzi cose di qua e di là e non solo non guadagnano neanche tanti soldi capite bene che li mandate ad uccidersi poi vanno all'estero vanno negli stati uniti vanno chissà dove in sud america a godersi l'evento tutti pompati e vai spacco tutto adesso contattiamo tutti perché così è lo so adesso spacco tutto miliardi di ormoni testa che viaggia adesso comincio a costruire il business anche qui lo apro anche qui il business adesso mi metto a costruire anche qui tutti fomentati poi ritornano a casa la doccia calda la famosa doccia calda del network marketing il calore finisce ok inizia a raffreddarsi il corpo la mente non è più eccitata il vostro spirito si è calmato e vi scontrate con la dura realtà che è quello che magari che è quella che magari avete speso tantissimi soldi in america e state con l'acqua alla gola alla bocca al naso nei capelli poi in ogni mese che viene da lì da quando rientrate fino a tot sei mesi dieci mesi io molte persone ho visto c'è veramente tante persone indebitarsi per andarsi a fare a seguire convention all'estero di qua e di là cioè ragazzi è sbagliato se avete leader che vi fanno indebitare a tutti i costi per questa per questo discorso ok perché dovete partecipare per forza di quei di là scappate a gambe elevate ci sono tantissimi miei distributori che presi dall'entusiasmo presi dalla voglia stanno arrivando mille messaggi whatsapp sotto maledizione sto whatsapp che mi distrae presi dalla voglia buongiorno buongiorno a tutti presi dal grande entusiasmo la grande voglia di partecipare magari hanno chiesto prestiti io non ho sentito non sentite di queste storie molte persone mi hanno chiesto molti miei distributori ma è giusto che io mi prendo un prestito per fare questa azione per muovermi in un certo modo a destra piuttosto che a sinistra io ovviamente sono sbiancato e li ho bloccati molti leader dovete sapere che pompano in modo eccessivo ok ma non capiscono e non hanno la sensibilità di capire che quei distributori se fanno delle azioni specifiche così violente così brutali nei confronti del loro portafoglio della loro vita saranno motivati soltanto all'estero poi tornano in italia e vi lasciano il business vi mollano il business perché tanto così è è quello che succede io penso che siamo tutti d'accordo e sono sicuro che tante delle persone stanno guardando questa live sicuramente hanno avuto esperienze così hanno sentito leader che hanno esagerato e hanno fatto indebitare miliardi di persone non si fa non seguiteli questi leader psicopatici e fanatici cioè dovete muovervi nel giusto cioè dovete stare fare le giuste azioni signore cioè ragazzi dovete fare le giuste azioni non potete stare a girare come degli psicopatici in italia poi pure in europa e poi pure a livello internazionale perché poi state senza una lira vi demotivate o senza un euro vi demotivate il vostro business vedete che non parte la vostra doccia calda diventa fredda e poi cominciate a dire il mio sponsor è stato cattivo la mia upline giustamente è stata una merda il mio business fa schifo il network marketing non è vero che aiuta le persone ma anzi il network marketing le fa indebitare e magari finirete ad essere come tanti che stanno nei forum stanno su google come quelli che mi vengono a commentare sul blog ormai sono migliaia decine centinaia di migliaia di persone all'anno che dicono che il network marketing fa schifo il network marketing non è bello e ti credo che poi le persone dicono che il network marketing è una merda ovvio cioè io non voglio dare ragione a queste persone che poi fanno di tutta un erbo a un fascio ma abbiate pazienza io penso che un minimo di ragione queste persone ce l'hanno poi è perché c'è non bisogna non bisogna fare azioni scellerate quindi seguite il giusto nella vostra zona non dovete mancare mai mezz'ora un'ora di macchina un'ora e mezza ve la dovete fare perché tanto male che va sarà una volta a settimana ok perché di solito così è due volte al mese quello che è volete lo stipendio da 1300 euro al mese a lavorare otto ore al giorno 50 ora alla settimana quello che è fisso ogni volta e dovete fare pure pippa e vi beccate 1300 euro poi volete cambiare vita volete cambiare il vostro futuro volete cambiare il futuro della vostra famiglia e non siete disposti a farvi 2 4 eventi al mese cioè investire facciamo dai tre ore ad evento tra chiacchierata perdita di tempo andare tornare 369 12 15 ore al mese 20 ore al mese non le volete investire nel vostro business capite bene che siete dei folli siete dei pazzi cioè è ovvio quindi mi raccomando fate attenzione a quello che vi ho detto perché è veramente importante buongiorno a tutti ok ragazzi quindi allora vediamo un po qui mezz'ora già ce la siamo fatta signori ho parlato 30 minuti a raffica proprio impressionante ho fatto una full immersion ok signori quindi avete delle domande da farmi perché lo sapete io poi quello che dico mantengo cioè ho detto che in italia faccio più o meno di media 30 40 minuti di live abbiamo quasi finito quindi se qualcuno ha da fare qualche domanda questa è un'altra cosa molto importante dovete mantenere la parola data buongiorno nicoletta ciao a tutti dovete mantenere la parola data quando vi escono delle cose dalla bocca dovete sapere che le persone vi guardano vi osservano e vi giudicano quindi se se parlate a bambera e se diventate dei cazzari cioè che dicono le cose poi non le fanno perderete di leadership e perderete di credibilità io quando ho detto fate attenzione iniziate a studiare già da adesso alcuni contenuti di qua e di là perché poi le persone arriveranno prima di voi vi fregheranno le informazioni prima di voi il mio blog sarà seguito da tantissime persone è così e sarà il blog più seguito in italia in europa e poi a livello mondiale perché tanto così sarà tra poco fate attenzione io l'ho detto ok molti se la sono presa comoda magari adesso iniziano si stanno svegliando vedono i risultati e arrivano cioè datevi una svegliata fin da subito e dovete capire che quando dite delle cose le persone vi osservano e poi vi ascoltano le fanno vi prendono sul serio cominciano a valutarvi quindi è molto importante mantenere la parola data stesso discorso per quanto riguarda le testate giornalistiche italiane perché riccardo di casparro finisce sulle testate giornalistiche italiane non manca molto io l'ho detto e lo faccio questo è molto importante cioè voi aumentate anche la vostra leadership capite se dite una cosa e poi la fate le persone che dicono cavolo però l'ha detto l'ha fatto cioè dovete essere delle persone serie cioè questo è il succo ok non potete essere come tutti gli altri che sparate solo boiate per farvi grossi o dite una cosa che dite a e poi e b i leader non fanno sta roba è brutto dirlo ma secondo me bisogna sempre essere moderatamente critici nei confronti di quello che viene consigliato sì giusto daniela e network che si deve adattare alla propria persona e soprattutto alle proprie disponibilità poi certo il prezzo si deve pagare commento saggissimo di daniela cioè quando ascoltate anche queste mie live che sono tutti training poi vi faccio ok voi cercate di assimilare questa informazione cercate di prendere le informazioni ok ma poi elaboratele cercate di rifletterci cercate di farvi comunque la vostra idea ok è molto importante poi è chiaro io vi consiglio di farvi la vostra idea tipo su un discorso così partecipare all'evento nazionale cioè in base alla vostra situazione magari il vostro leader massimo è in un'altra regione non nella vostra cioè io vi consiglio di ragionare su queste cose poi se è chiaro io vi dico di fare di contattare le persone in un certo modo e di non dire delle cose ad alcune persone voi lo fate lo mettete in discussione lì siete dei polli e sbagliate alla grande poi è colpa vostra cioè ci sono delle cose su cui è giusto riflettere su altre dovete limitarvi a fare anche questo vedete ogni angolo del network che viene toccato bisogna sempre avere la giusta sensibilità io lo so che quando faccio le live che ogni live al momento viene vista più o meno 600 volte roba del genere ci sono tanti giovani che mi guardano ci sono tante persone che non sono molto esperte o comunque ci sono esperti che magari cercano consiglio da me io ogni volta cerco di dire le cose con il massimo della sensibilità con il massimo dell'attenzione nei confronti delle persone che guardano live capite cioè non vi sparo cose ad minchiam solo per dirvele per farmi la live figa di casparra è seguito vedi hanno fatto tanti commenti hanno cliccato like tutte ste minchiate da teenager cioè io vi dico delle cose con il massimo della sensibilità e col massimo dell'attenzione perché so che ho una certa leadership una certa posizione le persone mi seguono perché ho messo in piedi tante cose blog di qua e di là e allora so benissimo che non posso dire cazzate in live non posso consigliare boiate io vi consiglio di fare altrettanto ma se sono arrivata tardi dopo rivedo sì nicoletta assolutamente ti consiglio di rivederla questa live perché si è connesso adesso abbiamo parlato di cose molto importanti e vi ho detto vi ho dato alcuni suggerimenti strategici per il vostro portafoglio per il vostro bene proprio quindi si riguarda tra come ogni live vi consiglio di ascoltare 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 mettetevele in loop ok ormai abbiamo stiamo andando verso le prime 50 ore di formazione con me su in video è giusto portare persone non iscritte ad eventi nazionali che durano anche una giornata intera mi seca che domanda vedete perché vi dico di fare le domande perché adesso da questa domanda nasce il patatrack che può servire a tantissimi altri questa è una domanda dovete sapere da 7 milioni e mezzo di dollari ok la ripeto è giusto portare persone non iscritte ad eventi nazionali che durano anche una giornata intera dice yasin yasin è una persona molto intelligente perché se fa una domanda del genere è una persona molto intelligente allora dovete sempre avere la giusta sensibilità nel comprendere la persona con cui state parlando e che pretendete di invitare all'evento se capite perché dovete sviluppare la st intelligenza emotiva non basta il quoziente intellettivo ok l'ho sempre detto se capite che la persona magari è una persona che sbrocca a stare 3 4 ore 10 ore in una sala e se gli fate le giuste domande se ci parlate in un certo modo lo capite ok si può capire ok è chiaro che non è il caso di portarla a un evento nazionale seppur sia straordinariamente bello da vedere di tanta gente la musica però sapete non tutti poi riescono a comprendere l'entusiasmo molti si spaventano pure degli applausi delle sale meeting negli eventi si spaventano di questo applauso quello ride oddio è malato cioè le persone vanno così quindi dovete fare attenzione a capire bene se la persona è pronta per fare un certo passo se non lo riuscite a capire voi domandateglielo in modo molto sincero dite guarda c'è un evento nazionale di grande livello glielo dovete vendere giustamente dovete far leva sui punti di forza ma non vi dico tante tecniche ok sopra fine per vendere bene gli eventi ci farò sicuramente metterò in piedi un infoprodotto devastante e però appunto dovete capire tutta sta roba ragazzi ok dovete capire sta roba cioè se la persona non è pronta per partecipare ad eventi di dieci ore è inutile portarcela è inutile quindi piuttosto la invitata a un webinar di 30 minuti piuttosto la portata a un evento di zona perché di solito gli eventi di network marketing durano massimo 45 60 minuti io tutti gli eventi di network che durano di parlo di presentazione del business io tutti gli eventi di casparro dice che cominciano a partire le pippe in italia sulle cose che dico ok se poi è giusto sì un attimo che arrivo quindi se poi l'evento dura un'ora e mezza o meglio oddio già è fattibile ma se dura due ore più di due ore già lì è un bel problema quindi mi auguro che i vostri eventi durino più o meno un'oretta presentazione business quindi piuttosto portate quella persona a un evento di zona viceversa se riuscite a capire che la persona invece quando glielo avete detto che può partecipare può venire tranquillamente all'evento non ha problemi di orario fate attenzione alle persone che invitate se hanno bambini figli a casa o c'è l'uomo che lascia moglie e figli a casa c'è la donna che lascia marito e figli a casa perché succede dovete attivare una certa un certo livello di sensibilità perché magari esempio del papà che rimane a casa capite bene che la mamma è la mamma ma va bene che il padre ok è importante pure il padre ma la mamma è la mamma e se la mamma viene all'evento non potete tenere la mamma lontano dal bambino per 12 ore perché deve stare al vostro evento di network marketing cioè manco questo va bene quindi dovete capire bene chi avete di fronte e ogni volta trasformarvi diventare dei camaleonti per riuscire a smistare poi ogni situazione nel migliore dei modi ok hai stomaco e coraggio dalla prima volta che ti ho ascoltato grazie federica grazie grazie ok intelligenza emotiva sempre assolutamente eventi internazionali fantastici dice luca ma bisogna essere che tra l'altro stai facendo un bel lavoro eh luca complimenti ogni tanto vedo i tuoi post mi sembra che hai fatto anche qualifica ultimamente stai avanzando di rank insomma nella tua azienda sono molto contento bravo continua così ma bisogna essere consapevoli che quando torni a casa ci sono conseguenze ci sono comunque gli zombie ah ok sì quello che ha detto luca è un altro punto molto importante cioè quando quando vi buttano è così quando vi buttano entusiasmo addosso state in un buon ambiente tutto molto positivo molto energico tutti contenti e quando è tutto figo dovete sapere che voi riuscite ad assorbire inconsciamente consciamente quell'energia che succede che quell'energia poi va tradotta ok e riportata nella vita reale reale tra virgolette perché perché è chiaro che quando voi andate sul posto di lavoro o dentro casa vi svegliate la mattina o cucinate un buon piatto non è che avete sempre le persone a dire bravo sei un grande benvenuto cioè tutta sta roba qui non non esiste ok è inutile prendersi in giro è molto raro che qualcuno va sul posto di lavoro e viene travolto dall'entusiasmo dei colleghi mamma mia meno male che sei arrivato oggi sei la cosa più bella del mondo ci illuminiamo d'immenso ogni volta che riceve è raro ok quindi dovete comprendere questa cosa che l'energia dell'evento va tradotta e riportata nel nell'energia ok che vivete tutti i giorni perché se cominciate a muovervi con lo stesso livello energetico nella vita reale tra virgolette cioè fuori dall'evento fuori dall'ambiente network marketing dovete sapere che le persone fuori si spaventano della vostra energia hanno paura della vostra energia sì se la fanno sotto ma che è questo madonna cominciano a dirvi ma come sei cambiato ma non ti riconosco più e cominciano a dire ma ma che ti hanno lavato il cervello ma stai parte ma hai partecipato a una setta ma che ti hanno fatto e cominciano a cercare di riportarvi sulla retta via secondo loro che la vita normale depressa o comunque normale senza troppi entusiasmi voi dovete resistere a quell'impatto che ci sarà inevitabile e dovete quindi tradurre trasformare l'energia che avete preso ok dall'evento la dovete tradurre e portarla nella vostra vita di tutti i giorni quindi dovete essere consapevoli che gli altri non recepiranno il vostro stesso entusiasmo questa è un'altra cosa molto importante non tutti sono disposti ad essere inondati dal vostro entusiasmo ci sono persone che non vogliono che gli si rompa le palle ok ragazzi è so così molti odiano che voi andate lì e fate gli entusiasti o è uscita una notizia bruttissima mamma mia mi dispiace tantissimo il ragazzo è stato ucciso perché quello lì ha detto che lo vedeva troppo felice non so se qualcuno di voi ha avuto modo di sentire questa notizia assurda di uno che ha ammazzato un ragazzo solo perché era felice cioè le persone sono strane lasciate stare questi casi estremi ma le persone sono strane voi dovete comprendere che non tutti sono uguali questo è molto importante in casa da subito mi hanno detto che era una sognatrice eccola lì vedete voi prendete la bella energia agli eventi state carichi volete portare avanti il vostro business volete crescere nel giusto modo tornate a casa e vi danno la mazzata è normale è normale e meno male che mi stanno lavando il cervello dice esatto gli eventi grandi ti caricano molto poi quando torni a casa dopo due tre giorni l'energia cala e cala l'entusiasmo ed è lì che inizia la vostra battaglia io in questo momento che sto facendo questa live sono molto carico e mi sento bene sul serio non so finto poi penso che mi sentite io non sono montato nelle live allora ragazzi bucca a culo le luci a me non mi interessano queste cose ok cioè free libero così voi così dovete essere nella vita di tutti i giorni liberi felici rilassati non vi fate lavare il cervello dalle energie degli altri non vi fate manipolare quando prendete una buona energia un buon entusiasmo da un evento lo dovete chiudere nello scrigno ok vostro nel vostro scrigno del successo ve lo tenete dentro di voi e lo proteggete se capite che la persona che avete di fronte non è pronta a ricevere alcune notizie non è pronta a ricevere una certa dose di entusiasmo piuttosto non parlateci fidatevi in casa da subito mi hanno detto ah sì esatto questo l'ho letto bisogna fare un lavoro su se stessi per tenere l'entusiasmo e l'energia sempre costante bravissimo lorenzo quello è il lavoro piuttosto che c'è riuscire a mantenere l'entusiasmo e la giusta energia costante nel tempo questa è la cosa più difficile la cosa più difficile siamo carichi di energia ed entusiasmo mi chiamano per le case ma anche se dovessi illuminare l'appartamento diciamo che piace molto la mia positività e lo vedete perché poi quando riuscita ad arrivare al livello di stefania che ha appena commentato perché lei per questa siccome ha scritto questa cosa ho capito che è sul livello superiore perché solo una persona che è sul livello superiore può scrivere una cosa del genere sappito stefania sei sul livello superiore se arrivate al livello di stefania cioè che alla persona le persone iniziano a dirvi madonna ma che bello stare con te quanto sei positivo ma è proprio bello cioè mi sento bene a stare con te cioè vi dicono mi mandano questi messaggi positivi vuol dire che voi siete diventati talmente tanto forti da influenzare completamente la psicologia degli interlocutori la psicologia delle persone che vi stanno di fronte lì diventate delle vere e proprie calamite ed è straordinario questa è veramente una cosa straordinaria quando accade questo vi cambia vi cambia la vita cioè che gli altri vi cercano perché siete delle belle persone che emanano buona positività continua così perché sei sulla strada non giusta di più fidate quello è il livello massimo ok ragazzi allora ci sono esatto va bene ragazzi io ho risposto a diverse vostre domande anche oggi ci siamo fatti una grande live con condividete questa live mandatela su un messager fate la mongolfiera fate come vi pare ok taggate vostri distributori colleghi fateli ascoltare queste informazioni perché fidatevi che possono fare una grande differenza tra il fallire e il vincere queste cose che vi dice di gasparro fidatevi che in giro non le ascoltate nessuno ve le dice queste cose non voglio fare adesso il mega mentor che molti poi come cominciano a rompermi le scatole di gasparro arrogante montato ma è la verità cioè sta roba che vi dico io non la sentite nelle live di qua nessuno fa live così ok quindi fidatevi date l'importanza non lo dico per pomparmi lo dico per dare veramente per passarvi un messaggio preciso cioè i vostri distributori i vostri colleghi hanno bisogno di sentire alcune informazioni è importantissimo perché queste cose speech e pratiche abbiamo parlato di vostro portafoglio di spendere tanto spendere poco sono cose pratiche che vi accadono tutti i giorni ok a forza di accettare gli inviti ho preso pure 30 chili e quello fa parte del percorso è quello fa parte del percorso perché quando siete belle persone le persone gli altri vogliono offrirvi cose da mangiare da bere di qua e di là è purtroppo a volte non si rifiuta va bene ragazzi dai mi metto al lavoro che devo preparare alcune cose per i miei training di formazione prodotti vari blog picci e imbrogli ok ci vediamo non domani dopo domani quello che è ma tanto lo sapete e niente ragazzi buonissima giornata a tutti mi raccomando datevi una mossa tra poco il gico bella arriva natale santo stefano a ferragosto che fate avete fatto 60 70 80 anni ecco come è andata la vostra vita datevi una mossa ok sbrigatevi veloci pratici non c'è tempo maledizione